ciao a tutti dopo il premio omres di videopoesia 2020 che quest'anno si è svolto a settembre dal vivo nel borgo di pereto in provincia dell'aquila con la presenza di un numeroso pubblico e che tra l'altro ha sviluppato l'interessante tema possiamo dire pasoliniano della forma della città ebbene si torna il festival omonimo appunto il festival omres di videopoesia con l'edizione ahimè online a causa del virus del covid 19 l'evento si svilupperà in tre giorni dall 8 al 10 dicembre al festival di quest'anno saranno proposte le migliori videopoesie del premio che ha fatto registrare pensate in due anni la partecipazione di ben 1400 video provenienti da tutto il mondo e in questa occasione si potranno vedere i quelli che sono stati i più apprezzati dell'edizione del del 2020 dal vincitore ai ai menzionati per il testo poetico per la musica per la miglior performance e per il miglior visual novità di quest'anno però è una sezione extra del del premio che appunto prevede la partecipazione di poeti con reading e performance e poi di provenienti da tutta europa tutto il mondo dalla croazia l'italia nigeria grecia lituania slovenia repubblica cieca il festival è un'iniziativa che attraverso il medium del video intende valorizzare i borghi ma più in generale il territorio le comunità e tutto l'indotto tutte le zone che non hanno nome intorno a questi a queste terminologie fisiche che stanno appunto soffrendo e che si stanno ritirando che si stanno urbanizzando in modo selvaggio pensate che più del 70 per cento della popolazione vive in in città in megalopoli metropoli ma oggi con le varie tecnologie con l'intelligenza artificiale con con la mobilità condivisa con le nuove infrastrutture potremo assistere a una sorta di ritorno anche dettata dal cambiamento degli stili di vita e delle abitudini che stanno cambiando anche per questa esperienza pandemica quindi il festival intende anche con questo tema porci delle delle degli interrogativi delle delle domande noi non dobbiamo dimenticare che appunto siamo parte di un territorio non esclusivamente di una città di una comunità montana o agricola di un club o di un'associazione con regole e statuto il territorio è fatto innanzitutto di terra e la terra è stata da sempre un luogo conflittuale dove tutto avviene un conflitto agricoltura contro industria contesto urbano contro contesto contadino e così via il territorio è di fatto non solo questo ma è anche ambiente è ecologia è paesaggio artigianato è cultura è tradizione ma è fatto soprattutto di persone persone anziane che hanno che sono fonte appunto di vecchi saperi che non dobbiamo assolutamente perdere e quindi la cultura può essere il volano che inizia dal dal culto dei morti dalla tradizione dall'interlocuzione con le con le persone stesse queste potrebbero essere le fasi in cui il culto appunto del territorio il culto del del morto diventa cultura solida condivisa attraverso un fare artistico contemporaneo perché anche riprendere la tradizione tradire quindi la tradizione essere contemporaneo con il paradigma quindi della della riscoperta soprattutto dei dei saperi senza questa consapevolezza andremo a fare delle delle iniziative prettamente individualistiche che poi si rivelerebbero delle cattedrali nel deserto noi non dimentichiamoci che eh oggi però dovremo anche riscoprire quelli che saranno domani i borghi del eh del futuro mi riferisco per esempio ai soborghi quelli abbandonati dalla polverizzazione dei dei distretti industriali che sono stati portati altrove o che non esistono più in quanto ormai in in disuso perché non soddisfano più dei dei bisogni mercantilistici noi come operatori culturali dovremmo ridisegnare i eh i territori dovremmo riprogettare ehm i territori dovremmo essere un po eh degli architetti ehm dovremmo chiederci eh innanzitutto dove dove viviamo eh con chi viviamo e eh dobbiamo quindi essere eh degli architetti degli archeologi degli spazi urbani eh del territorio ad esempio noi eh da italiani eh conosciamo abbiamo ben in mente quando parliamo di nord e sud quindi di una comunità del nord di una comunità del sud con tutto quello che implica però non sappiamo ad esempio le comunità che ci sono quando parliamo di eh est o ovest per esempio della comunità appenninica della comunità eh adriatica eh ma anche di nuove comunità che stanno nascendo con con il fenomeno del dell'immigrazione ehm questi sono soltanto degli inneschi degli spunti che eh ci devono eh portare a riflettere come appunto la la cultura eh possa in realtà avere vita soltanto se ha il culto del del territorio quindi considerateli soltanto come degli degli inneschi in questi pochi minuti io mh concludo questo intervento ringrazio tutti i partner che ehm hanno partecipato per la riuscita del di questa iniziativa e vi auguro ovviamente buona visione buona luce e buona poesia grazie